Oggi siamo venuti al centro Fisioradi per intervistare il dottor Andrea Buccarini che è un biologo nutrizionista. Ci vedete insieme a Gino davanti alla bilancia, in realtà noi lo vorremmo fare salire ma per lui non c'è bisogno certamente di una dieta o di un qualcosa di ben preciso sulla nutrizione. Forse dovrei farlo io salendoci ma lasciamo perdere e direi di andare a sentire i consigli del dottore. Eccoci qua nello studio del dottor Andrea Buccarini, un biologo nutrizionista molto giovane, l'abbiamo visto entrare in studio in perfetta forma fisica, non poteva essere altrimenti specializzato in nutrizione sportiva. Parleremo quindi ovviamente di sovrappeso, obesità e tenteremo di fare il focus anche su quello che l'aspetto proprio riguardante i giovani. Ma io direi di cominciare dottor Buccarini con una domanda la più istintiva che ci viene. Vogliamo parlare di obesità ma esattamente se vogliamo tentare di far capire cosa significa l'obesità? Allora l'obesità, detta in maniera più semplice possibile, si ha quando il rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato è superiore o uguale a 30. Che sarebbe questo famoso indice di massa corporea. Indice di massa corporea, esatto. Come definizione e quindi si capisce che è un valore che si può ricavare anche da soli. Semplicemente anche da soli, con una formula, quindi peso fratto altezza al quadrato. Al quadrato, esatto. E questo è un discorso che diventa particolarmente importante quando riguarda i giovani perché da giovani e da adolescenti può capitare di incorrere in problematiche legate al peso. Poi per esempio in un momento storico come questo nel quale veniamo dal lockdown, dalla sedentarietà dei ragazzi sempre davanti al computer. Ma quali sono proprio i primi effetti negativi di questo aspetto? Cioè cosa succede di male in un fisico giovane che comincia ad aumentare di peso? Allora, l'adolescenza è il periodo della vita in cui si verifica il maggior tasso di abbandono dell'attività fisica e questo accade nella maggior parte dei casi perché i ragazzi a quell'età hanno meno tempo da dedicare all'attività fisica. Infatti l'adolescenza è un periodo della vita in cui gli impegni durante la giornata aumentano. Di conseguenza a farne le spese sono il calcio, il basket, la pallavolo, ma tutti gli sport, quindi anche la danza e l'atletica leggera. Questo problema è stato portato a galla anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e questo ci fa capire proprio la gravità della situazione. Recentemente i ricercatori hanno analizzato più di 300 studi riguardo i livelli di attività fisica dei giovani, di più di 1,6 milioni di giovani tra gli 11 e 17 anni di 146 paesi diversi e i risultati che sono emersi sono molto sconfortanti perché più dell'80% di loro, al pari degli adulti, pratica meno attività fisica di quanto dovrebbe, quindi meno di un'ora al giorno. Questa tendenza alla sedentarietà ha delle conseguenze già a partire dalla giovane età e queste conseguenze si riflettono inevitabilmente sulla salute del futuro adulto. Sì, anche perché avere degli stili di vita ottimali significa poi fare una vita ottimale e stare bene. Esattamente, sì, quindi stare, praticare sport, un'alimentazione corretta durante la giornata, sì, per tutta la vita. Per tutta la vita, certo, anche perché lo diciamo sempre, il cibo, l'aspetto legato al cibo, noi tutti i giorni in realtà siamo a confrontarci con la prima medicina, cioè il cibo. Due o tre volte al giorno mangiamo, introduciamo elementi nel nostro organismo, quindi è importante introdurre elementi sani. Esatto, siamo appunto, siamo quello che mangiamo. Siamo quello che mangiamo, una definizione giustissima. Ma adesso, proprio facendo un focus, come sta procedendo, come sta progredendo questo discorso dell'obesità infantile? Ci dobbiamo preoccupare? Allora, in Italia l'86% dei decessi e il 75% delle specie sanitarie sono legate a patologie come le malattie cardiovascolari, tumori, ma anche il diabete mellito, malattie respiratorie croniche. Molte di queste malattie hanno in comune il fatto di avere dei fattori di rischio modificabili, come l'alcol, il fumo, l'obesità, la sedentarietà, ma anche l'ipertensione, dislipidemie, quindi trigliceridi e colesterolo elevato nel sangue. Molti di questi fattori dipendono dall'alimentazione, che si segue durante l'adolescenza. Sempre più spesso ci troviamo di fronte dei ragazzi con delle abitudini alimentari non propriamente corrette, quindi è importante fare delle campagne di prevenzione negli asili, nelle scuole, nelle strutture pubbliche. Infatti sempre più spesso in ambulatorio ci troviamo di fronte dei ragazzi che saltano la prima colazione oppure mangiano alimenti molto salati, non consumano frutta, non amano la verdura, mangiano nei fast food, di conseguenza la loro alimentazione sarà povera di fibre, di vitamine, di minerali come il potassio, è ricca dal punto di vista calorico e anche molto presente di grassi saturi e carboidrati raffinati. Quindi è importante ribadire che l'alimentazione che si segue durante l'adolescenza avrà delle ripercussioni sulla salute del futuro adulto. Per quanto riguarda i benefici dell'attività sportiva possiamo dire che questi riguardano lo sviluppo delle masse muscolari ma anche la salute cardiovascolare, l'apparato respiratorio e la salute dell'osso che sono tutti vantaggi che derivano da una migliore gestione del peso corporeo, infatti più si si muove e minore è la probabilità di doversi trovare a combattere con i chili di troppo. Alcuni ricercatori hanno addirittura ipotizzato di miglioramenti per quanto riguarda la salute cognitiva e lo sviluppo di una solida rete sociale, che sono tutti vantaggi che si protagono fino all'età adulta e da qui nasce l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti gli adolescenti dovrebbero fare attività fisica tutti i giorni, almeno un'ora al giorno. Quindi è importante l'aspetto che ha sottolineato il dottore perché ha puntato l'attenzione sulla cultura, sull'approccio culturale anche a questa materia, è chiaro che la scuola, che l'educazione ha un'influenza fortissima, se si potesse in effetti aumentare la sensibilità della scuola, del momento dell'istruzione, del momento in cui i ragazzi crescono, su focalizzarli l'attenzione su aspetti così importanti, questo come tanti altri sarebbe fondamentale. Esatto, questo è fondamentale, iniziare dai più giovani, quindi mettere le basi di un'alimentazione corretta che poi verrà seguita per tutta la vita. Certo, perché poi si mangia bene, si mangia meglio, si sta bene, si sta meglio. Sì, esattamente. Ci sono altri dati, qualcos'altro che vorrebbe dire? Perché è un tema talmente interessante che più ne approfittiamo di lei e vogliamo proprio saperne di più. Sì, altri dati importanti sono quelli che ci fornisce il sistema di sorveglianza nazionale Occhio alla Salute, che nel 2019 ha preso in considerazione più di 500 mila bambini italiani della terza classe della scuola primaria, monitorando il loro peso corporeo e tenendo in considerazione il contesto socio-economico in cui vivevano. I risultati sono stati molto sconfortanti perché il 20,4% dei ragazzi risulta sovrappeso, mentre il 9,4% risulta obeso. Inoltre, si è visto che i maschi hanno dei valori di obesità superiori rispetto alle femmine e si verifica un chiaro trend geografico che vede le regioni del sud, quelle con un maggior tasso di obesità rispetto alle regioni del centro o del nord. Si è visto inoltre che i maggiori tassi di obesità si verificano nelle famiglie con un contesto socio-economico non elevato nei bambini che sono stati allattati al seno per meno di un mese o mai. Ma anche questo è un altro aspetto, ha toccato questo aspetto del cibo, del sud e del nord. Tutti conosciamo il meridione d'Italia, tutti sappiamo che quando andiamo in vacanza in Puglia, in Sicilia o in Campania torniamo ingrassati di 3 kg perché comunque le cose sono ricche di tanti aspetti, quindi questo è sicuramente fondamentale. Ma per esempio, un'altra cosa che si dice che noi comuni mortali diciamo fra di noi, mi vado a fare una bella mangiata, poi faccio 10.000 passi e in qualche modo rimedio. Cioè è vero, ma è vero parzialmente. È vero in parte perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà come attività fisica minima 150 minuti a settimana e questi 150 minuti dovrebbero essere suddivisi, spalmati diciamo su tutta la settimana e non solo concentrati in un unico giorno. Quindi è importante fare attività fisica ogni giorno, proprio come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno un'ora al giorno. Certo, certo. Chiaramente anche perché detto così è alla portata di tutti. Diciamo la verità, alla portata di tutti. Basta parcheggiare la macchina 10 metri più in là rispetto al solito e possiamo già fare l'attività fisica. Si vuole un minimo di impegno e un minimo di sacrifici, bisogna farli e comunque si possono ottenere ottimi risultati. Anche perché dopo a un certo punto non sono più sacrifici. Eh sì, diventa proprio un piacere. L'attività fisica deve essere proprio un piacere, non deve essere un obbligo, deve essere proprio una cosa che ti piace, un hobby, una cosa che fai con piacere. E che fa stare bene, dottore, grazie davvero, è stato come sempre quando siamo qui a Fisio Radio un incontro molto interessante, su temi interessanti che sicuramente avranno dato dei chiarimenti ai nostri ascoltatori. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.